l'immagine del menu sfarfalla come si vede qui e qua poi spesso le formule Word non si vedono qua si vede, ma qua per esempio no, ci sono delle formule qui che non vengono visualizzate, i menu continuano a sfarfallare per vedere le formule bisogna bisogna andarci proprio dentro e a questo punto le mostra infine a volte i video si vedono neri o si vedono male qui intanto continua sempre a sfarfallare l'immagine dei menu